Saliamo ancora per il calcio d'angolo, questa volta lo scambio è nostro, c'è Pirlo, libero, potrebbe anche calciare, lo fa il gioco! Pirlo! Profondità di Iaquinta, cercata sullo scatto di Gouffour, Iaquinta da Pirlo, è lentissimo Iaquinta, c'è andato, vincenzo! Iaquinta, 2-0! Palla tagliata per Boccanegra che non arriva liscio, autogol di Zaccardo, incredibile pareggio degli Stati Uniti. Ci può essere una soluzione, perché loro non giocano a zona, non lo sta marcando nessuno. Palla tagliata, sale Materazzi, ma il gol! Materazzi, 1-0, 1-0, 1-0! Inzaghi, 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 super! Pippa inzaghi, 2-0! Per Grosso, che riesce a far passare i palloni, c'è ancora spazio per un traversone, prova a prendere lo spazio a Grosso, Grosso in area di rigore, sempre Grosso, ancora in area di rigore, Grosso in area di rigore, Grosso in area di rigore! Francesca! Tanti, 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 tanti! Pallone di ritorno, c'è tempo per il traversone, che è davvero! Luca! Toni! 2-0! Passa, Zambrotta, passa in mezzo, Zambrotta ancora dentro, Luca! Toni! 3-0! Cominciate a mettere i palli dentro le valigie! 4-4, siamo in inferiorità numerica, c'è Kel, Kel prova a dare il pallone all'interno per Podoschi, in area di rigore, puffon, puffon! Puffon, puffon! Marcatore di Cannavaro, palla tagliata, messa fuori, dice Pirlo, 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 ancora Pirlo, di terzo, tiro! 2-0! Grosso! 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 Gordi Grosso! Gordi Grosso! Gordi Grosso! Al Campino! Viene contro il pieno per tutti! Dentro il pallone per Girardino! Girardino lo può tenere anche vicino alla bandierina! Cerca 2-1! Girardino! Dentro del pieno! Del pieno! Go! Del pieno! Gordi Grosso! Andiamo a Berlino! Andiamo a Berlino! Andiamo a prenderci a Coppa! Andiamo a Berlino! Uno spettacolo! Uno spettacolo! Loro tutti avanti, tutti strutti! Le 6 è l'Olympia Stadium di Berlino e Italia-Francia è la finale! Malouda in area di rigore, Malouda passa, calcio di rigore! Traversa, traversa! Non è gol! Non è gol! È gol! È gol! È gol! Ha toccato dentro! È pronto ad andare Pirlo! Il secondo palo! Palo d'arrivo! Go! Materazzi! Go! Materazzi! Siamo ancora vivi! Siamo ancora vivi! Uno a uno! L'abbiamo ripresa subito! 19... Leva il traversone di Sagnolce a Cazidane! Buffon! Buffon! E un po'? Eh no! Eh no! Eh no! E no! Indecente! Indecente Zidane! Sotto gli occhi di tutti! È la vista, adesso il telefono! Passare! Si va ai calci di rigore! Sotto gli occhi di rigore! Sotto gli occhi di rigore! alza l'altra perché oggi è più bello essere italiani abbiamo un'impotente grande grande